Bene, mercoledì 24 marzo, undicesimo incontro della Scuola di Preghiera. Ti ringraziamo, Signore, di darci un tempo per ascoltare la Tua parola. Fa che non ti resistiamo, che la Tua parola penetri in noi e che il nostro cuore sia aperto, perché nella Tua parola è il segreto della nostra identità, l'identità alla quale siamo chiamati. Prendiamo, come sempre, qualche minuto per raccoglierci, per metterci alla presenza di Dio, nel posto in cui ciascuno di noi è, da solo, in silenzio e contemporaneamente insieme a tutti i compagni. Respiriamo a fondo, sentiamo il corpo che a modo suo ci ringrazia per questa occasione e desidera allentare le tensioni e darsi un tempo di quiete così diverso dal tempo di quiete che riceve nel sonno. da noi stessi, dal nostro corpo, dall'unità che il nostro corpo, le nostre menti, le nostre anime compongono, portiamoci ad ascoltare l'energia presente nella stanza in cui siamo e portiamo la nostra consapevolezza oltre i confini della nostra casa nelle nostre città, nei nostri paesi, nel nostro tempo uniamoci nel pensiero e nella preghiera alle persone che ci sono vicine alle persone che sono lontane alle persone a cui vogliamo bene alle persone che non conosciamo a coloro che soffrono e immaginiamo la Terra in questo momento unita in una difficoltà comune che riguarda la natura che riguarda tutte le persone in modo diverso e in particolare per questa emergenza così strana che è il Covid offriamo la nostra consapevolezza di questa incredibile complessità all'altare immaginario ma anche estremamente reale presso il quale presso il quale esprimiamo la nostra fede e invochiamo con le parole di Sant'Ignazio mio Signore mio Dio imploro la grazia che tutte le mie azioni le mie intenzioni i miei progetti siano dedicati unicamente alla Tua lode e al servizio della Tua Divina Maestà alcune premesse sul testo sul quale pregheremo questa sera non leggerò la parabola del seminatore e vi invito perché il testo sarebbe troppo lungo ma vi invito a farne tesoro e a tornarci da soli potrebbe essere utile sia per fare una sorta di esame di coscienza sul tipo di terreno che ciascuno di noi offre alla parola di Dio sia per individuare con leggerezza e senza giudizio che tipo di terreno offrono alla parola i nostri interlocutori che qui non sono presenti nel corso degli ultimi mesi abbiamo contemplato naturalmente in modo molto veloce e breve i misteri della vita di Gesù dall'incarnazione e l'annunciazione a Maria fino all'invio dei 72 ora prima di entrare nella settimana santa disponiamoci a contemplare un ultimo aspetto importante della predicazione del ministero pubblico di Gesù il suo modo di insegnare in parabole alle folle e direttamente ai discepoli questa sarà anche l'occasione per poter contemplare i discorsi di Gesù imparare quando ci appaiano i discorsi di Gesù come possiamo non essendo descritta una scena fisica applicare il metodo nel Vangelo di Marco ci sono pochissimi insegnamenti astratti diciamo discorsi ma negli altri evangelisti dedicano gli altri evangelisti dedicano molta parte del loro racconto agli insegnamenti di Gesù pregando sul brano di Luca dell'incontro scorso molti di noi sono arrivati a identificarsi con uno dei 72 discepoli che Gesù ha chiamato e poi inviato dinanzi a sé per guarire e soprattutto per annunciare il suo arrivo e come lui stesso faceva la vicinanza del regno di Dio in questo tempo di preghiera chiediamo la grazia come sempre di conoscere intimamente Gesù e di ascoltare da lui che cosa intende per regno di Dio faremo la composizione del luogo immaginando una situazione fisica nella quale Gesù può essersi trovato a insegnare alle folle e poi ci identifichiamo anche se non il testo non ne parla con uno dei 72 discepoli che lo ascolta immaginiamo e ascoltiamo le sue parole di Gesù dando loro vita nella nostra immaginazione come se fossimo uno di quei discepoli poi come sempre quando la scena non si preciserà con nuove immagini concluderemo con un colloquio mio signore mio Dio imploro la grazia che tutte le mie azioni le mie intenzioni i miei progetti siano dedicate unicamente alla tua lode e al servizio della tua divina maestà dal Vangelo di Marco capitolo 4 versetti 1 34 cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare si riunì attorno a lui una folla enorme tanto che egli salito su una barca si mise a sedere stando in mare mentre tutta la folla era a terra lungo la riva insegnava loro molte cose comparabole e diceva loro nel suo insegnamento ascoltate ecco quando poi furono da soli quelli che erano intorno a lui insieme ai dodici lo interrogavano sulle parabole diceva loro viene forse la lampada per essere messa sotto il moggio o sotto il letto o non invece per essere messa sul candelabro non vi è infatti nulla di segreto che non debba essere manifestato e nulla di nascosto che non debba essere messo in luce se uno ha orecchi per ascoltare ascolti diceva loro fate attenzione a quello che ascoltate con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi anzi vi sarà dato di più perché a chi ha sarà dato ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha diceva così è il regno di dio come un uomo che getta il seme sul terreno dorma ovegli di notte o di giorno il seme germoglia e cresce come egli stesso non lo sa il terreno produce spontaneamente prima lo stelo poi la spiga poi il chicco pieno nella spiga e quando il frutto è maturo subito egli manda la falce perché è arrivata la mietitura diceva a che cosa possiamo paragonare il regno di dio o con quale parabola possiamo descriverlo è come un granello di senape che quando viene seminato nel terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e farami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola come potevano intendere senza parabole non parlava loro ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa immaginiamo di essere un discepolo o una discepola di Gesù e prima di questo osserviamo il luogo nel quale ci troviamo ora Gesù è sceso dalla barca le folle si sono allontanate immaginiamo queste folle per un secondo e dove questa volta altre volte in luoghi diversi dove ci porta Gesù a noi siamo siamo in tanti o siamo in pochi ci sono forse i dodici e forse qualcun altro magari non proprio tutti i settantadue perché gli altri sono in viaggio sono altrove immaginiamo un posto abbastanza ampio che ci contenga tutti il cortile di una casa per esempio magari è sera ed è una sera tiepida con la brezza che attraversa il cortile il pavimento di terra è compatto pulito e ci si può sedere in cerchio e al centro seduto come noi Gesù osservo questo gruppo di persone magari ci sono anche alcuni bambini le donne i giovani gli anziani alcuni di noi sono con Gesù da più tempo altri sono appena arrivati osservo questo gruppo provo a delineare delle fisionomie e mi sento e proprio mentre li osservo circondate dalle case intorno al cortile mi sento come chiamare a essere uno di loro nei panni di questa persona seduta per terra magari con le gambe incrociate coperte dello salle perché fa un po' freddino e ho Gesù di fronte a me a qualche metro di distanza mi piace ascoltarlo ascolterei giorno e notte immobile senza dire una parola e Gesù come mi appare come lo vedo che tratti ha com'è la sua voce per qualche minuto l'osservo e quasi quasi le parole mi sfuggono tanto sono compresa a osservarlo che cosa mi piace di lui e come mi sento quando dice improvvisamente mi desto come non vi è infatti nulla di segreto che non debba essere manifestato e nulla di nascosto che non debba essere messo in luce la promessa che anche noi semplici e umili possiamo capire tutto che tutto 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 ci diventerà chiaro se stiamo insieme a lui perché si nasce perché si muore perché si soffre perché si gioisce e soprattutto questa promessa che è già qui dice Gesù il regno di Dio com'è per me il regno di Dio il regno di Dio è come un uomo che getta il seme sul terreno dorma ovegli di notte o di giorno il seme germoglie e cresce ascolto queste parole e la voce di Gesù mi porta a entrare in tutto quello che lui dice e non mi capita sempre che altre persone abbiano questo stesso modo di rendere quello che dicono così presente agli occhi della mia mente un terreno vedo i terreni che conosco le terre che conosco e vedo questa piantina che diventa una spiga e poi il chicco che diventa sempre più grande la spiga sempre più dorata e poi il frutto è maturo e diventa tempo per la vendemmia per la mia titura che modo ha di parlare Gesù fa delle pause o cammina o parla velocemente e ancora dice a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo Gesù lascia sempre un tempo in cui tutti noi possiamo immaginare altre cose rispetto a quelle che lui dice e sempre ci stupisce perché questo regno è così umile è come un granello di senape che quando viene seminato sul terreno è più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e farami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare l'idola sua ombra e mi immagino questo granello che diventa un albero grandissimo e già mi vedo seduta sotto questo albero con il cinguettio degli uccelli all'ombra al fresco insieme a Gesù e a qualcuno dei miei compagni Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci a oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci abbandonare alla tentazione ma liberaci dal male Amen